Un pareggio per la Fragolese, avete provato un po' tutte le vostre mosse, però avete trovato un muro? Sì, loro hanno fatto la partita che forse era nelle loro forze, si sono difesi soltanto. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di scardinare la loro difesa arcigna. In 5 occasioni ci siamo riusciti pure abbastanza bene, poi siamo arrivati sotto porte. È per qualche errore nostro, è per bravura del portiere, non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Forse magari se si fosse sbloccata subito sarebbe finita in maniera diversa, però ci teniamo la prestazione con la consapevolezza di migliorare i nostri errori che oggi ho visto solo sotto porte. In effetti abbiamo visto alla fine le torri scendere in campo, però forse un po' monocorde nell'ultimo quarto d'ora alla Fragolese. Beh, monocorde, siamo stati in pianta stabile nella loro metà campo quasi tutto il secondo tempo. È normale che se non ci riesci per altre vie trovi le soluzioni che hai a disposizione. Due torri alte, è normale che devi mettere la palla lunga e andarti a giocare la seconda palla. In qualche circostanza ci siamo riusciti, poi siamo stati meno bravi sotto porte, però andiamo avanti con fiducia. Il Barano, è questo il Barano che le si aspettava? Sì, a dir la verità, le ho visti solo difendere, però evidentemente loro hanno preparato la partita così e gli è andata bene, quindi complimenti a loro perché sono riusciti a strappare un punto a noi meritatamente forse per voglia, ma non per gioco espresso.